Primo ferragosto per Abbaia Flaminia, la spiaggia in cui dallo scorso 27 giugno i padroni di cane trovano anche a Pesaro un luogo per potersi godere un bagno al mare assieme ai loro amici a quattro zampe. Una spiaggia che mancava in città e che Abbaia Flaminia sta riscuotendo l'apprezzamento crescente dei suoi frequentatori. Siamo partiti in fretta e furia per inaugurare la spiaggia alla fine del mese di giugno e è una cosa abbastanza richiesta sia dai turisti che dai residenti della città di Pesaro. Nasce da un'idea che è stata presentata già una decina di anni fa, quella di dotare anche Pesaro di una spiaggia per animali. Per Ferragosto abbiamo organizzato dei giochi in spiaggia con i cani, quindi ci saranno uno staff di educatori che faranno delle attività per far divertire sia i cani che i padroni. Questa è una sorpresa di domani dove ci saranno anche dei premi di partecipazione e dei nostri partner nella gestione di questa struttura. In parte già molti che amano gli animali conoscono questa realtà e sicuramente quest'anno la parte comunicativa è stata bilanciata anche in base al discorso del distanziamento e quindi speriamo prossimamente di poter lavorare anche per promuovere a livello nazionale questa realtà. La gestione dei cani passa comunque attraverso un rigido regolamento di comportamenti e alla stretta vigilanza dello staff della stessa spiaggia. I regolamenti fondamentalmente sono di tenere il cane al guinzaglio perché così possono entrare anche cani che hanno un po' più problemi con gli altri cani e con le persone, mantenere la distanza a prescindere dal covid anche la distanza tra cani e rimanere nello spazio apposito che è praticamente la recinzione e i cani anche nell'acqua hanno comunque una loro parte. Queste sono le regole di base, raccogliere gli escrementi e lasciare pulita la spiaggia, il cane deve essere microcippato, deve aver fatto le vaccinazioni. Fondamentalmente sono poche, vanno rispettate e effettivamente non è mai successo assolutamente nulla.